Ciao ragazzi, oggi parliamo di musica internazionale con un gruppo italiano, italiano precisamente delle nostre zone, della Riviera Ligure, Riviera di Ponente, sono i Four Seasons e sono Fabrizio, Paolo e Federico. Ciao ragazzi! Allora Paolo, io intanto sto sbirciando nella vostra fanpage Facebook che ha più di 7000 mi piace, dove la tenete tutti i giorni aggiornata con news, i pezzi che pubblicherete, i concerti, e stavo leggendo appunto che voi siete attivi dal 2011 e l'anno scorso siete usciti con Seat of Shame. Dopo tre anni di attività ti voglio chiedere, che cosa vi ha spinti a produrre un album e a chiamarlo appunto Seat of Shame? Beh sì, allora Seat of Shame vuol dire la seduta della vergogna, per farti un esempio come quando ti fermano, perché per un controllo magari tu sei per strada, che aspetti magari i documenti, che è un semplice controllo, però hai timore della gente che passa, che magari possa pensare qualcosa di male, in realtà non lo è. Noi abbiamo fatto Seat of Shame e abbiamo messo a nudo le nostre esperienze in cinque pezzi, quindi abbiamo fatto questo EP raccontando un po' di tutte le esperienze che abbiamo fatto, che abbiamo avuto, sia belle che brutte, ecco tutto qua. Fabrizio, io leggo qua lì dalla vostra front page di Facebook che da settembre avrete l'onore di collaborare con uno dei più grandi produttori della musica del vostro genere americana, che è Andrew Wade, per chi non lo conoscesse ha prodotto band del calibro dei To Remember, Ghost Inside. Ecco io volevo chiedervi, cosa dobbiamo ottenderci da questa collaborazione e dal vostro futuro prossimo? Cambierete orizzonti, ci saranno delle novità, che cosa dovete impastare ai vostri fans? Allora, sì, ci sarà sicuramente un grosso cambiamento anche perché è passato un anno, abbiamo vissuto diverse esperienze, noi tendiamo sempre a tramandare nei nostri album le nostre esperienze, le nostre situazioni, i nostri stati sentimentali, emotivi, che magari a volte fanno rispecchiare anche la vita di altri. Andrew Wade è un gran produttore e sicuramente faremo qualcosa di anche tecnicamente molto più elaborato e anche qualcosa di molto più personalizzato e originale, perché si sa che qua in Italia c'è un rimbombo di quello che è l'America, cioè con l'andare degli anni succede che esce fuori una band di là, un artista, dopo un tot di tempo qua viene rispecchiato, noi andando là direttamente in America cercheremo comunque appunto di fare un qualcosa e sperare che appunto poi sarà qualcuno di italiano a lasciare noi il rimbombo. Intanto io sto scorrendo qua le foto della vostra fanpage e ho visto che avete aperto dei concerti importanti, degli Zebra, ad esempio, e suonate però anche in club più piccoli, in bar con meno persone, diciamo in posti più intimi. La differenza sostanziale tra il grande palco con tante persone e il posto più intimo, qual è? Beh, la differenza diciamo che un pochettino cambia, comunque è una bellissima esperienza. Noi abbiamo aperto le due date, le uniche due date in Italia degli Zebra, a Milano e a Milano Marittima, ed è stato fantastico perché c'era comunque un'organizzazione fatta veramente al top, cioè nel senso c'erano molte persone che lavoravano appunto per te, per loro, per tutti gli artisti diciamo che erano lì, noi e loro. E suonare davanti a tante persone è sempre una bellissima emozione, ma è anche bello suonare nei posti più intimi perché diciamo che il punto di riferimento è sempre suonare, quindi noi per noi suoniamo e ci divertiamo ovunque. Logicamente magari nei posti più intimi è un po' più calorosa la cosa perché magari siamo in pochi, però suonare su un palco grosso come quello degli Zebra è stata veramente una bellissima esperienza e è stato veramente fantastico. Perfetto, che poi mi sembra di aver capito, anche amici in comune mi hanno detto, e io verrò presto a vedere, ve lo giuro, che i vostri non sono dei concerti musica, voi offrite musica e basta, diciamo suonate e basta, sono dei veri e propri show, vero? Sì, diciamo che il discorso qua è proprio questo, è detto bene. Noi tendiamo a coinvolgere le persone, non siamo maestri di musica e diciamo che viaggiamo su questa linea. La nostra linea appunto sono giusto degli accordi e quello che fa prendere le persone sono il nostro coinvolgere, i nostri show e il nostro comunque cercare di tirare in mezzo cose particolari, cosa che comunque notiamo che sta sempre di più sparendo, almeno localmente. È vero, assolutamente. Allora, Fabrizio, Paolo, ma c'è anche Federico, al quale faccio l'ultima domanda, se siete d'accordo. Poi magari ci sentiamo un pezzo acustico. Federico, volevo chiederti, secondo me voi siete già degli artisti perché fate musica, la fate perché vi viene da dentro la vostra passione e sicuramente sarà anche il vostro lavoro e io vi auguro, anzi, è il vostro lavoro e vi auguro di vendere tanti dischi, quanti mi piace, che avete ogni giorno sulla Facebook page. Secondo te però, che cosa significa essere artisti? Essere artista sicuramente vuol dire sapersi divertire e saper far divertire prima di tutto. È un sapersi mettere in gioco continuamente e è una sfida anche con se stessi. Essere sempre pronti a migliorare, a continuare, diciamo, a mettere in discussione le proprie capacità in cerca comunque di traguardi sempre più importanti per se stessi e per gli altri. Ok ragazzi, adesso ci ascoltiamo l'ultimo single estratto dal video che si chiama Seek Love, ce l'ascoltiamo proprio così, live. Intanto io vi saluto, vi ringrazio, è stata una bella chiacchierata musicale, si parla di musica internazionale ma loro sono nostri, abitano qui, sono della nostra provincia e gli auguriamo veramente tanta 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 M puntini 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 perché così si fa nel mondo dello spettacolo. Ciao ragazzi, per Imperia Post, naturalmente è tutto, ci vediamo. Alla prossima intervista, ciao! 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 is an emergency